Sì, noi stiamo celebrando un congresso, come facevano una volta i partiti che si strutturavano. Ieri abbiamo aperto una sede a Vibo, abbiamo fatto congressi a Crotone, a Reggio e oggi concludiamo con Catanzaro. Segno di un'attenzione importante che il nostro partito sta riscuotendo, anche con presenze trasversali di altri esponenti che sono interessati alla nostra offerta politica e stiamo raggiungendo numeri importanti sul tesseramento. Abbiamo 4.000 iscritti a livello regionale e anche qui in provincia di Catanzaro siamo andati oltre le 1.000 iscrizioni, quindi segnale di un radicamento e un rafforzamento che Azione sta svolgendo al sud e in particolare in Calabria. La proposta politica di azione è segnata dal coraggio delle proprie idee, con le nostre proprietà che sono chiare, sanità, istruzione, lavoro e infrastrutture, perché siamo indipendenti, cioè non siamo subalterni né al centro-sinistra né al centro-destra e siamo liberi perché questo ci dà la possibilità di scegliere sulla base delle persone, sulla base del progetto e dell'interesse dei cittadini. L'azione si compone di diverse componenti, c'è la componente del socialismo liberale, l'azione viene dal partito d'azione dei fratelli Rosselli e quindi una componente sicuramente partigiana e sicuramente più vicina al centro-sinistra. C'è una componente repubblicana, che è quella a cui fa spesso riferimento il nostro segretario nazionale, Carlo Calenda, i principi repubblicani che ispirano la nostra Costituzione, e c'è una componente popolare e cattolica, rappresentata anche dal manifesto per, appunto, popolari e riformatori, avviata per esempio dall'ex ministra Bonetti e dall'ex coordinatore presidente di Italia Viva, Ettore Rosato. C'è una forte richiesta di politica, ma la politica con la P maiuscola. Noi pensiamo di rappresentarla ascoltando la gente, partendo dalla base, partendo dai suoi bisogni, partendo da una politica che si è troppo arroccata e che non ha dato risposte alla cittadinanza, ai bisogni degli ultimi. Noi partiamo da questo, le nostre idee sono abbastanza semplici, sono quasi banali, ma la politica è la cosa più semplice che possa esserci, è l'interpretazione dei bisogni. Noi ci proponiamo di essere interpreti dei bisogni di tutti i calabresi, di tutti gli italiani. La proposta politica è una proposta di carattere nazionale. Nella provincia di Catanzaro abbiamo avuto un successo importante nel passato di tesseramento, senza neanche, diciamo così, spingerci oltre. Tanta gente è venuta da sola, ma tanta, tanta gente è venuta da sola. Allora, capisci che c'è la richiesta di un nuovo percorso politico, ma c'è sostanzialmente un bisogno che la politica si riappropi dell'etica e della morale. E noi speriamo di interpretare, cerchiamo di interpretare nel migliore dei modi, ci proviamo, continuiamo a fare politica come l'abbiamo sempre fatta, tra la gente e per la gente, e mai contro qualcuno, sempre per qualcosa, che è la nostra terra. È un test importante che caratterizzerà molto l'azione prevalentemente sulla regione Calabria, nella provincia di Catanzaro, nella fattispecie, dove noi saremo un soggetto attento e soprattutto presente in ogni provincia, presente in maniera significativa in ogni provincia. Probabilmente determineremo tante scelte, saremo soggetti attori primari, ma sostanzialmente noi siamo dove siamo sempre stati, dove ci hanno mandato gli elettori. Non ci sottraiamo dalla responsabilità perché una comunità va governata, anche con le proposte che provengono dall'opposizione. Certamente bisogna capire anche se chi ci ascolta è interessato a dire, di recepire i nostri messaggi e poi essere conseguenziale. Se così non è, ritengo sia una speculazione, che ovviamente e sicuramente non ci sarà, noi saremo favorevoli alla città sempre, alla provincia di Catanzaro sempre, chiunque possa portare proposte, opportunità e progetti che migliorano la qualità di vita dei nostri concittadini. Non abbiamo pregiudizi nei confronti di nessuno, qua c'è tanto da lavorare. Insieme forse riusciremo a fare qualcosa, diversamente faremo soltanto fuffa e ce n'è già troppa.